Grazie al protocollo siglato tra Governo e Regione Abruzzo nel 2023 partiranno i lavori relativi al potenziamento di infrastrutture idriche regionali, volti all'ampliamento dell'impianto di potabilizzazione di Montorio Alvomano e alla realizzazione di una condotta adduttrice per l'approvvigionamento idrico del subambito pescarese. A seguito della proposta di un nostro progetto per un revamping e un potenziamento del potabilizzatore di Montorio abbiamo ottenuto due linee di finanziamento, una di 30 milioni di euro e una di 20 milioni di euro, quindi un importo complessivo di 50 milioni circa, che andranno appunto a favorire una serie di lavori sul potabilizzatore. Questo rappresenta il progetto Bandiera dell'Abruzzo il cui obiettivo è quello di potenziare le infrastrutture acquedottistiche regionali al fine di rendere più efficienti e resilienti le infrastrutture idriche primarie e assicurare l'approvvigionamento idrico potabile all'intero territorio regionale superando le significative situazioni di emergenza nel settore. Sarà la risoluzione definitiva per la cosiddetta crisi idrica perché avremo una maggiore quantitativo di acqua da distribuire, ma sarà talmente importante questo quantitativo che potremmo venderne anche a Pescara, quindi aiutando anche l'acquedotto pescarese che appunto come sapete soffre di una crisi ben peggiore della nostra e questo porterà anche un indotto ulteriore di ricavi alla Ruzzoreti e quindi nuovi investimenti su tutto il territorio, alla fine è un circolo. Questo della tariffa del servizio idrico è un discorso molto complesso, non è così automatico, intanto ci sarà questo abbassamento appunto della tariffa probabilmente in futuro per tutta una serie di motivi, come l'abbassamento dei costi che abbiamo messo in atto in questi anni e l'incidenza del potabilizzatore su questo aspetto è minore diciamo.